Gatta Marta. Anna cercò la gatta Marta in tutta la casa e finalmente la vide sotto il divano. Per un altro mese rimase lì. Di notte usciva per mangiare, bere e fare i bisogni nella cassetta, ma al mattino Anna la scovava sempre sotto il divano. Finalmente un giorno uscì, mi agolò per un po', si stiracchiò per un quarto d'ora e andò a sistemarsi sulla scrivania dove Anna stava lavorando. Quella notte poi, quando Anna andò a dormire, saltò sul letto e le si piazzò sulla pancia e questa diventò la sua vita, di giorno la scrivania, di notte il letto. Se però qualche estraneo entrava in casa, tornava a nascondersi sotto il divano. Gli amici di Anna pensavano che Gatta Marta non esistesse perché nessuno riusciva mai a vederla. «È sotto il divano», spiegava lei, e infatti, se ti chinavi e osservavi bene, vedevi laggiù nel buio due enormi occhi verdi spalancati. Gatta Marta amava Anna, la scrivania, il letto di casa sua e nient'altro. Odiava gli spostamenti, i cambiamenti, le novità e detestava soprattutto la cesta di vimini in cui la costringevano entrare per portarla fuori casa. Fine.